Giorgio Menara di Taggia, famoso barman ma anche chef con esperienze in Italia e all'estero e anche allo storico clipper di Taggia. Com'è ricevere questo riconoscimento, questo bonsai di eccellenza imperiesa? È un'emozione, francamente perché non me l'aspettavo. Infatti glielo ho detto anche al grande comandante, potevi sbrigarti, magari l'anno prossimo non potevo più prenderlo. Gli sicuramente, però insomma è stata una gioia, è stato un piacere e sono emozionato. Che ricordi ci sono di tutta questa vita avventurosa e divertente anche? Sì, dura ma divertente. Ho avuto dei ricordi tipo le miniere nei carboni, per capirci, in Belgio. E ho avuto invece dei ricordi bellissimi perché ho girato i più bei posti del mondo. ho lavorato e ho avuto il piacere di conoscere dei grandi personaggi e dei grandi chef e dei grandi barman che mi hanno passato. Chi non me l'ha passato, io ho rubato un po' di mestiere. E l'ho portata d'arma, tutto lì.